Fare i furbetti potrebbe rivelarsi decisamente difficile, per mettere alla parola fine al cosiddetto fenomeno dei portoghesi, a Tibi ha coinvolto persino le guardie giurate. 20 vigilantes sono operativi da alcuni giorni sugli autobus sia della rete urbana che di quella extraurbana. Negli ultimi anni la politica anti-evasione ha portato i suoi risultati. L'azienda di trasporti Scaligiora nel 2016 ha registrato una percentuale di passeggeri senza biglietto molto inferiore alla stima nazionale che si attesta invece al 20%. Sono poco più del 5% gli evasori sui pullman urbani, 3,3% quelli della rete extraurbana, dati che scenderanno ancora con l'arrivo dei vigilantes. Necerta TV che ha già aperto il portafoglio e ha stanziato un investimento di 400 mila euro all'anno. 20 vigilantes dall'inizio alla fine del servizio per cercare di debellare una volta per tutte questa piaga dell'evasione. 11.500 controlli e 677 sanzioni, questo è il bilancio dei primi 10 giorni. Oltre ad affiancare il lavoro dei controllori aziendali per l'aspetto dei biglietti, le guardie armate vigilano anche sulla sicurezza. Infatti sono tutte qualificate anche in tema di antiterrorismo. Hanno frequentato un corso in sintonia col decreto ministeriale che prevede un percorso formativo di eccellenza perché questi agenti devono essere formati su un'infarinatura antiterrorismo, su psicologia comportamentale, attività di osservazione.